ciao a tutti e benvenuti in questo gameplay di Prince of Persia le sabbie dimenticate finalmente riprendiamo allora m'ho già scordato pure dov'ermai ah già m'ho già scordato pure i tasto che ormai penso che Ezio Auditore sia l'arambico con R1 no come si faceva a correre ah ecco ma che schifo da tempo che non ci gioco e quindi da una parte di questa c'è un un cazzo qua eccolo qua qui c'è uno scrigno potete vedere ah ho attivato un po' te non mi ricordo manco più i comandi no veramente non sono cozzato prima ho riavotto un sacco di volte il tempo perché Ezio Auditore corre con R1 invece chi è stato corrupa R2 stu merda adesso che abbiamo sappiamo i comandi ma non sappiamo dove andare beh ha finito pure le cose è perché ho riavotto da mettiti quel tempo non voglio, vedi che si batte che ha capitato ah tu stai? ok come è un ricordo di comando v è un ricordo in voi è un ricordo di comando 1 minuti facciamoci un po' di chiacca va di là lascia aaaaaa ecco perchè avvare la fama non è non è vero è vero salta un po' di chiacca è deviato Oltre 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 Il principio di Di venditoria Oe quando è schifo sti coso Beh Uah Il cacchule Ma fa un muc Addio Emo Emo Il cacchule Emo Caglione 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 Ma chi l'era questo Ma buono questo serve per andare Allo squignolo Eccolo qui Noi non dobbiamo andare allo squigno Andiamo avanti No Sì Beh Lo so Me la sbariai malamente un po' su S S L'ho Lo so Lo so Lo so Ok Visto L'acqua Ti 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 E come cazzo la scassata per me mo? e come? arredi potrei fingere di non essere stato io no, non sono stato io sarà stato l'esercito eh, fatto so so andiamo so 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 quando si inscribbero ci sono alcuni che già hanno il livello 50 di cosa lo sai vulture infatti uno siciliano disse a me ma quando ci hanno giocato se vuoi usare la tua mamma e dal non lo so qui è volare ma chi si si scusate qua ecco ecco qua mezzo di trasporto con un motivo di questa no? che lascibacca ohio qui io ho chiesto che sei nel coscio storto zumba a capolchi e non finimmo l'ambra che ormai questo gioco è diventato un pezzo di antiquariato come d'altronde qua dopo il tre tu ancora le fai dopo il tre ma fai il giro stuomo cioè io l'ho finito mi manca solo il platino io ci voglio giocare eh hai scritto che pia la povera poi non ci puo pazzia veramente allora sono uscite queste cose e uno io lo faccio con il nostro lo faccio direttamente con il nostro canale perché se non avete apprezzato però lo faccio direttamente qua ma io sono qui non c'è io l'ho fatto senza manca sapere cosa si scena beh mi sono buttato nell'oblio c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va deve essere l'acqua che azione macchina wow non va non va Grazie a tutti.